Si sono rivelate fino a questo momento infruttuose le ricerche del giovane Michele Gallo, il 25enne scomparso nella notte tra l'11 e il 12 luglio dalla sua casa a Sala Consilina. Le ricerche e le diverse segnalazioni hanno portato ad ipotizzare la presenza nelle zone marine del Golfo di Policastro, ma potrebbe già essersi diretto verso sud, quindi in Calabria, oppure verso la costiera cilentana. In ogni caso, non si escludono ipotesi, i familiari continuano a lanciare appelli per chiedere aiuto a quanti potrebbero averlo incontrato. Sabato scorso la famiglia e gli amici sono stati impegnati in battute di ricerca partendo da Casella in Pittari per poi dirigersi verso il Golfo di Policastro. La sorella e gli amici lanciano l'appello affinché chiunque abbia modo di incontrarlo possa fermarlo e intrattenerlo in qualsiasi modo e contattare le forze dell'ordine e i familiari ai numeri diffusi anche tramite volantini, oltre che sui siti internet e sui social. Michele Gallo al momento della scomparsa indossava una maglia in filo bluette a manica lunga, bermuda nero e scarpe di colore blu simili al colore della maglia e nero, come nella foto postata dalla sorella Elena. Tantissime le persone che continuano nelle ricerche, sembra però che non sono sufficienti e si susseguono anche sui social continue richieste di aiuto della ricerca, vista anche la vastità dell'area da perlustrare. Numerosi i messaggi che vengono lanciati, soprattutto dalla sorella, che in queste occasioni ha ricordato come il giovane sia di indole molto tranquilla, ma che potrebbe trovarsi in uno stato confusionale che gli impedisce di ritornare a casa. Per questa ragione l'appello è quello di fermare il ragazzo, qualora venisse individuato da qualcuno, e trattenerlo fino all'arrivo dei soccorsi. Le segnalazioni nei giorni passati non sono stati sufficienti. Infatti, dopo gli avvistamenti, il ragazzo si è nuovamente allontanato e si sono nuovamente perse le tracce. Michele Gallo potrebbe trovarsi ancora nella zona del Golfo di Policastro, così come potrebbe essersi spostato anche sulla costiera cilentana o verso sud, in direzione della Calabria. Si teme che si sia allontanato a bordo di un treno. Anche la trasmissione RAI, chi l'ha visto, è sulle tracce del ragazzo. Sul sito internet ufficiale della trasmissione è possibile trovare tutte le informazioni utili.